Che buona, che buona questa cialda croccante, questa sera Cialanoglu da otto signori, un grandissimo Cialanoglu che ha ispirato il Milan, che sta vincendo, mancano ancora due minuti, guardo un po' la tv, guardo voi, 4-1 dopo una partita ben giocata, pressing continuo, bella prestazione sul piano tecnico, sul piano qualitativo. Il Milan ha dominato dall'inizio, pressando il Lecce, ha sfiorato il gol, o meglio, belle parate di Gabriel su Buonaventura, di Gabriel su Castiglieco, di Gabriel su Chessy, di Gabriel su Theo Hernandez, tantissime le conclusioni del Milan che poi passava in vantaggio grazie a Kurt Gödel, un genio. Sapete, il filosofo è quello della teoria dell'incompletezza, dopo Aristotele il più grande genio, Kurt Gödel, questa sera si chiama Cialanoglu. Ciala ha inventato un tiro radente ed è arrivato di piatto Castiglieco per il gol dell'1-0. Sembrava tranquilla la partita del Milan, chiude sull'1-0, controlla la partita, poi nel secondo tempo, nel secondo tempo, protagonista il solito signor Valeri, secondo me dà un rigore molto, 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 molto generoso che viene trasformato da Mancosu, ma molto, molto generoso, mentre io sto guardando i tentativi del Lecce, ma vediamo se il Milan tiene bene, poi respinge, attenzione, Conti, generoso e realizza spiazzando Donna Roma. Ma la reazione del Milan è subitanea, subitanea, ancora Cialda croccante, Cialda croccante, ancora lui decisivo, il tiro dal limite respinge e Gabriele arriva a Buonaventura, anche lui fra i migliori, 2-1. Ma poi c'è anche il 3-1, un tiro, un bellissimo, una bellissima apertura, o meglio, un bellissimo lancio di Cialanoglu, fa volare come se fosse il pifferaio di Amelin, come se avesse, come se fosse, come se fosse Gulliver nel paese dei Lillipuziani, lui è Rebic, sacro fuoco, che si presenta solo davanti al portiere e lo batte con un tiro dal basso in alto alla Pippo Inzaghi. 3-1 ma non è finita, ancora Cialanoglu, ecco l'apertura, pallone per Conti che mette in mezzo, Leao che era appena entrato realizza la rete del 4-1. Il Milan aveva perso Chier per un intervento di Saponara, è entrato Gabbia, sfortunato in occasione del rigore perché sinceramente il rigore mi sembrava non ci fosse. Sono solo due minuti di recupero, il Milan controlla, però un Milan molto, molto, molto bravo, molto, molto presente, molto pressing. È stato un Milan straordinario in una serata benissimo allenato da Pioli perché Pioli, il Milan ha, il Milan è stato bravo anche sul piano fisico. E dunque bravo, bravissimo anche Pioli, ma soprattutto lui, cialda croccante, questa sera strepitoso, gustoso, grande, cialda, cialda, cialda croccante, cialanoglu. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegati.